Buongiorno, ben ritrovati per il consueto appuntamento mattutino con l'informazione naturalmente quella che riguarda la carta stampata per Occhio ai giornali che come tutte le mattine alle 7.30 apre la nostra giornata e anche la vostra naturalmente dal punto di vista dell'informazione ma prima di guardarli i giornali procediamo con l'almanaco del giorno e poi le previsioni del tempo oggi venerdì 19 febbraio Beato Corrado Confalonieri, il sole è sorto alle 7.01 e tramonterà alle 17.43 previsioni del tempo vediamo quelle di oggi all'insegna della variabilità inizialmente poco nuvoloso però nel corso della seconda parte della giornata intensificazione della nuvolosità e quindi un cielo parzialmente nuvoloso, possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio sempre nella seconda parte della giornata ma particolarmente nelle zone interne nella nottata dovrebbero accentuarsi questi fenomeni anche sotto forma di temporali vediamo la giornata di domani di sabato anche qui all'insegna della variabilità e della pioggia nelle zone interne sempre nella seconda parte della giornata e quindi zone interne colpite anche dalla pioggia le temperature però sono in lieve diminuzione e quindi insomma mari mosso con diminuzione del moto sempre nella seconda parte della giornata vediamo la giornata di domenica come si presenta ma la vedremo magari un po' più attendibilmente nella giornata di domani però intanto vediamo questo flash che vedete è all'insegna del bel tempo del sereno senza precipitazioni e anche le temperature sono in aumento però insomma domani per il weekend ci sarà una previsione un po' più attendibile dal punto di vista dei calcoli pronostici vediamo le pagine dei giornali come si presentano questa mattina apriamo con il resto del carlino che dà la buona notizia del ritorno a casa di Asia una battaglia vinta quindi insomma abbiamo vinto pochi casi al mondo di doppio trapianto quindi una vittoria della medicina per la 19enne pesarese accolta al rientro dai familiari dal fidanzato e dai tanti amici anche in questo caso il resto del carlino dedica doppia pagina la 4 e la 5 a questa vicenda a lieto fine e il coetaneo dice non la conoscevo sono venuto è stato conquistato dal suo coraggio ricordarsi di acquistare le uova di Pasqua a marzo in via Branca per appunto sostenere la ricerca e la medicina è la nonna incontenibile la nonna naturalmente e tutti i nonni sono veramente amanti dei loro piccoli sono dei super tifosi e dice metto la mascherina con grande anticipo non voglio fargli rischiare nulla e quindi insomma leggete un po' tutta la storia in queste due pagine del resto del carlino ma si continua a parlare di sanità sempre nella parte che riguarda Pesaro i medici sono in rivolta sul sentiero di guerra tra camici bianchi di famiglia il presidente dell'ordine Battistini dice inapplicabile Ceriscioli perché sospenda il decreto sulle prescrizioni diventerà impossibile fare prevenzione lasciati soli di fronte ai nostri pazienti questo è il grido d'allarme in questa intervista sulla pagina del carlino pianeta sanità naturalmente il presidente Luca Ceriscioli e il decreto Lorenzin a parlare appunto è il presidente dell'ordine Battistini in questa intervista aumento dei costi dice gran parte delle analisi di routine finiranno per essere a pagamento la pagina di Pesaro del resto del carlino parte anche con un episodio un evento che si è tenuto ieri in collaborazione con la Guardia di Finanza e il Ministero dell'Istruzione che ha messo in piedi un progetto per sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sul concetto di legalità e quindi Guardia di Finanza a contatto con gli studenti si è iniziati dal Mamiani e naturalmente vedete qui gli studenti nell'aula consigliare della provincia ad ascoltare quanto avevano da dirgli sulla questione legalità e gli ufficiali della Guardia di Finanza incontro con gli studenti e naturalmente i temi sono evasione fiscale falsi invallidi e contraffazione abbiamo mostrato ai ragazzi dice il colonnello provinciale Raimondo della Guardia di Finanza di Pesaro ai ragazzi i danni socio-economici provocati da alcuni reati rimaniamo nel resto del carlino e nelle pagine che riguardano Fano naturalmente anche qui si parla di sanità però sotto un altro aspetto parliamo di sanità pubblica sotto forma di bonifica e naturalmente si parla di amianto le tonnellate bonificate sono 1700 anche il sottosegretario presente ieri a Fano elogia la città e l'impegno della città per questo nel 2015 sono stati effettuati 121 accertamenti e in 61 casi disposte le ordinanze di rimozione quindi un lavoro importante e vedete qui nella foto il taglio del nastro per la nuova palestra che si è inaugurata ieri alla presenza di autorità locali e nazionali del mondo politico e quindi una palestra riportata alla sua totale fruibilità da parte di tutta la cittadinanza ma si parla di carnevale e di bilanci sul carnevale nelle pagine del resto del carlino ma anche negli altri quotidiani i numeri da record quest'anno sono veramente parole ricorrenti record, boom è veramente l'anno in cui si sono le iperbole grafiche sulla carta stampata e anche negli articoli per dire che è stato veramente un carnevale da ricordare oltre 180.000 visitatori e pioggia di turisti oltre che di cioccolatini e dolciumi abbiamo lavorato come a Capodanno anche i ristoratori festeggiano naturalmente tutte le attività di accoglienza della città tanti camperisti insomma sono stati presenti qui da noi quasi mille camper e questo è un movimento turistico quello del camperismo da tenere presente perché sono veramente numeri importanti quelli che li affiancano e sono indipendenti quindi si vanno a sommare alla offerta di accoglienza di una città i camperisti se messi a loro agio sono una risorsa anche questa da sfruttare 35 gli eventi collaterali insomma vedete qui ahimè purtroppo nella foto uno dei carri decapitato ma non per infortunio ma per sicurezza anche questa è stata una foto molto vista e qui insomma si è parlato anche però di futuro del carnevale vedremo anche e vedremo anche come ancora nelle pagine del resto di Carlina l'ultima che vi propongo per Fano del quotidiano bolognese si parla di lavori naturalmente lavori il comune stanze a 35 mila euro per la ristrutturazione dei servizi igienici e quindi ci saranno a disposizione nuovi punti di utilizzo di bagni pubblici rimessi in sesto appunto per la prossima stagione turistica e questo era una necessità evidenziata anche durante il carnevale proprio in virtù della forte affluenza di turisti nella città insomma i servizi igienici pubblici sono punti di riferimento importanti anche per queste manifestazioni andiamo nel Corriere Adriatico vi porto nelle pagine che riguardano Pesero si parla del San Domenico a ridosso proprio della piazza di Pesero e il progetto di Ricci per riqualificare questa zona dove si vorrà concentrare del cibo quindi ci sarà il polo del cibo un master plan per il centro storico quindi una pioggia di soldi per rimettere in sesto non solo quest'area ma anche altre aree del centro pesarese la riqualificazione del corso presentata da Belloni alla circola del PD saranno valorizzate forme di arte, di musica, di food insomma c'è tutto un progetto che riguarda il centro storico pesarese e poi accusato di detenzione e divulgazione di materiale illegale l'avvocato dell'accusato dice sono file scaricati inavvertitamente dal web pedopornografia nei guai un noto medico e ancora nelle pagine del quotidiano bolognese per quanto riguarda Pesero ma non solo è stata la star di Sanremo tutti se lo ricorderanno Giuseppe Ottaviani che ha snocciolato la sua ricetta di lunga vita ed è festeggiato da amici dopo naturalmente l'impegno a Sanremo e anche in altre trasmissioni si ritorna a lavorare in palestra non sono anziano ma longevo attenzione sottile ma sostanziale differenza che ha tenuto a sottolineare Ottaviani mi telefonano da ogni luogo vogliono sapere i miei segreti ma io non ne ho vita tranquilla e buon cibo questa è la sua ricetta oltre naturalmente a voler bene ai suoi familiari nelle pagine di Fano del Corriere Adriatico anche qui i bilanci della Carnevalesca naturalmente la lotteria è una lotteria a sfondo anche benefico e quindi raccolti più di 6.000 euro per Federico e dati 4.500 euro alla mensa dei poveri raddoppiati appunto i fondi per la solidarietà raccolti con la lotteria e prendigetto boom ecco come vi dicevo l'altra terminologia molto ricorrente dei soci e 180.000 spettatori Cecchini rilancia in questa giornata di bilancio con 5 grandi carri nel 2017 quindi adesso sono 4 i grandi carri di prima categoria più la insomma quello della musica arabita che naturalmente fa parte anche del corteo e del getto però si rilancia con un altro quinto carro che quindi si va a sommare diventerebbero 6 poi i carri carri grossi quindi insomma comincia ad essere un corteo veramente imponente per finanziare tutto ciò conta su due presidenti su due imprenditori il presidente Cecchini la società delle Wings e contributi statali e contributi statali che arriveranno per insomma foraggiare questa nuova iniziativa poi si parla anche delle elezioni della rielezione del insomma del presidente del consiglio oltre alla Gian Marioli c'è anche una fronda interna anche questa è una fase che seguiremo e poi si parla anche del Lido nella pagina del Corriere Adriatico il Lido la zona del Lido che si appresta alla stagione estiva e vuole essere un punto di riferimento per la Movida e naturalmente c'è stato l'incontro del sindaco con gli operatori che chiedono cura e arredi e in questo incontro il sindaco Massimo Seri ha rilanciato tutto e ha snocciolato tutta una serie di iniziative che saranno fatte e concentrate sul Lido si va dai quattro cantoni alla Notte Rosa alla Notte Romana alle giornate fanesi anche concerti sull'acqua su piccole barche insomma c'è di tutto e di più per rilanciare questa parte della città naturalmente in maniera significativa vi porto nella pagina che riguarda Senigallia per il Corriere Adriatico dove si parla ancora una volta della piazza e del parcheggio che non c'è più ieri c'era il tema della scuola e del traffico oggi sono i commercianti qui a attenzionare l'opinione pubblica su questo aspetto e anche il sindaco perché sulla pagina facebook della bacheca del sindaco arrivano i commenti dei commercianti che dicono siamo preoccupati perché insomma non sempre si ha la possibilità di passeggiare e di farsi lunghe camminate spesso la gente corre dalla mattina alla sera e deve andare nei negozi per necessità e quindi insomma il 90% della gente lavora così è una commerciante che lancia questa allarme si chiama Laura Pianelli che ha fatto questo post sulla bacheca e dice attenzione nei negozi si va anche per necessità e se diventa difficoltoso per la gente parcheggiare non si ha tutto questo tempo per farsi una gran passeggiata si andrà da un'altra parte quindi insomma la conseguenza la conseguenza di questa situazione è che i negozi del centro avranno un gap economico l'ultima testata il messaggero velocemente San Domenico pronti 5 milioni per riqualificare tutto il centro storico dal governo fondi al comune serviranno appunto per il recupero nel centro storico e vedete fotonotizia il ritorno di Asia Asia dei Miracoli schianto sulla Pergolese perde il carico di farina un camion il tempo meteo è buono per il weekend e riprende naturalmente quota l'arte pesarese del novecento insomma questa è una notizia che riguarda gli amanti dell'arte c'è anche Banca Marche nelle pagine del messaggero che dice spunta una nuova causa la Consob sapeva tutto gli ex vertici in corte d'appello annullate le multe tra i ricorrenti bianconi Darini 26 milioni di perdite e un'altra un'altra pagina che vi voglio far vedere è l'ultima è quella di Fano del messaggero anche qui grande evidenza ai bilanci della carnevalesca naturalmente Cecchini vuole restare in sella e rilancia come presidenza il carnevale dell'estate grandi soddisfazioni per i numeri da record di questa edizione ma adesso si pensa a quella del 2017 vedete qui nella foto notizia nella foto centrale cerco di ingrandire quanto più possibile la piccola mascotte Masha e Orso che non si sa insieme al papà quante migliaia di fotografie e visualizzazioni ha avuto sul web è stata sicuramente una delle foto più rappresentative di questa edizione del carnevale poi di spalla due articoli la storia di Giancarlo Selci padrone dell'ABS tra impresa e successo storia di vita e di imprenditoria anche di Dini Salvalai quindi della piscina si parla a Latere della pagina di Fano del messaggero e poi a centropagina vi consiglio un bellissimo libro di Carlo Moscelli che insomma celebra con questo libro l'amore tra Fano e la Reunartica quindi si parla di aeroplani e di tutto quello che è gravitato insomma nel insomma nel mondo dell'aviazione fanese e poi questa sera al Teatro della Fortuna naturalmente c'era un concorso fotografico legato al Carnevale premiazione del concorso fotografico bene questa era l'ultima segnalazione di notizia che vi davo per quanto riguarda il messaggero ma tutta l'informazione su carta stampata di oggi che troverete in edicola occhio alla notizia questa sera e domattina di nuovo occhio ai giornali con la rassegna stampa alle 7.30 puntuali grazie per essere stati con noi naturalmente vi ricordo sito e pagina facebook buona giornata e buon proseguimento a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti